La regione siciliana passa alla fase 2 del progetto per l'eliminazione delle condizioni di pericolo da dissesto idrogeologico nella città di Licata. A partire dal 2016 le violente alluvioni che si sono abbattute sulla città hanno tragicamente messo a nudo la fragilità di una parte del centro abitato, finito letteralmente sott'acqua con ingenti danni e il comprensibile panico dei cittadini. Così nel corso di un vertice convocato a Palermo, a Palazzo Orleans, il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha voluto dare nuovo impulso alla messa in sicurezza del territorio della cittadina licatese, da sempre alle prese con le acque del fiume Salso che sfocia a mare proprio a ridosso dell'abitato. Alla riunione hanno partecipato una delegazione del comune di Licata guidata dal sindaco Giuseppe Galanti e dall'assessore lavori pubblici Carmelo Castiglione, il direttore dell'ufficio contro il dissesto idrogeologico Morizio Croce e il capo della protezione civile della presidenza della regione siciliana Calogero Foti. Dobbiamo lavorare per non farci più trovare impreparati e abbiamo il dovere di tutelare al massimo l'incolumità degli abitanti, ha detto il governatore siciliano. Bisogna quindi accelerare, ha aggiunto Musumeci, la realizzazione di tutte le opere necessarie a raggiungere tale scopo, impiegando fino in fondo le risorse a disposizione. Come è emerso dalla riunione, la protezione civile regionale ha già impegnato 13 dei 30 milioni di euro stanziati dalla regione. In particolare sono in corso gli studi propedeutici alla progettazione esecutiva della sistemazione idraulica del tratto più pericoloso del fiume, mentre sono state aggiudicate le gare e si stanno per consegnare i lavori per mettere in sicurezza le località Playa, Fondachello, Colonne e Nicolizia, ormai largamente antropizzate. Si tratta di primi interventi urgenti per scongiurare nell'immediato nuovi pericoli per queste aree. Musumeci, anche nella sua qualità di commissario di governo, ha inoltre assicurato tempi rapidi da parte della struttura antidissesto per il consolidamento del costone sovrastante la via Marconi. Da oggi, ha precisato il governatore siciliano, ci sarà un confronto costante tra regione e amministrazione comunale dedicata per analizzare e prendere in considerazione tutte le criticità esistenti con il necessario coinvolgimento di quegli uffici che potranno trovare soluzioni idonee e rapide. A Telescopo, Musumeci ha riconvocato il tavolo tecnico per il 4 giugno prossimo e già in quella riunione, ha sottolineato il Presidente, dovranno essere individuate nuove concrete risposte da fornire alla comunità licatese.